Io resto a casa e ognuno di noi deve rispettare questa norma. Dobbiamo restare a casa e dobbiamo evitare il contagio. Rimanere a casa significa cambiare completamente la nostra vita, le nostre abitudini, la nostra attività. Dobbiamo stare attenti a tutta una serie di cose per rispettare le norme che il nostro cervello ci dà. Rispettare il ritmo sonnoveglia, non eccedere con il sonno, rispettare l'alimentazione che deve essere particolarmente ipocalorica in quanto avendo meno attività avremo anche un minore consumo calorico. Rispettando l'attività fisica ci muoviamo di meno, dobbiamo farlo all'interno della nostra casa con attività corpo libero, ciclette o tapirulanze ce ne abbiamo. Stiamo attenti alle sostanze energizzanti come gli energy drink o attivanti come la caffeina, la cola o la teina. Cerchiamo di berne il meno possibile. Stiamo attenti ai messaggi. I messaggi devono essere equilibratamente considerati. non banalizziamoli, non siamo superficiali, ma nello stesso tempo evitiamo le tragedie e la valutazione eccessivamente emotiva di quelle a cui ci viene detto.